La riforma del lavoro e legge per la Fisaskat è positivo, l'apprendistato e il contrasto alle flessibilità malate, ma occorrono nuove misure per l'occupazione dei giovani e delle donne. Turismo, la categoria a confronto con i territori per il nuovo contratto 2013-2015, bilateralità e livello decentrato e punti fermi. Case da gioco, i sindacati chiedono l'avvio del negoziato per il primo contratto nazionale. Urgente rilanciare le relazioni industriali per la tenuta di un settore in forte sofferenza. Bentornati al TG Lab, mercato del lavoro in primo piano. Il governo ha approvato definitivamente la riforma Fornero, così come chiesto dal premier Monti prima del summit Salva Euro di Bruxelles. Nel servizio di Paola Mele, le aree di intervento della riforma e il punto di vista della Fisaskat. Una riforma che non avrà come effetto lo sviluppo dei posti di lavoro. Così il segretario generale della CISL commenta l'approvazione definitiva della riforma Fornero, approdata alla Camera in tempo per il summit di Bruxelles. Per Raffaele Bonanni, e su questo c'è condivisione con gli altri sindacati, il testo approvato ha subito troppe modifiche rispetto alla versione originale decisa nella trattativa con le parti sociali. Pur condividendo quanto previsto dalla riforma sul ricorso al contratto di apprendistato come canale privilegiato per l'ingresso al lavoro, sull'introduzione di norme finalizzate a dare una maggiore inclusione dei soggetti deboli, con il forte contrasto alle dimissioni in bianco, le misure per i disabili, l'allungamento del permesso di soggiorno per gli immigrati e sul contrasto alle cosiddette flessibilità malate, come associati in partecipazione, false partite IVA, tirocini e stage che nel terziario trovano terreno fertile, la CISL, in particolare la Fisaskat, ritengono che una riforma del lavoro realmente incisiva avrebbe dovuto favorire lo sviluppo dell'occupazione dei giovani e delle donne, i soggetti deboli del mercato del lavoro, oltre a prevedere maggiori iniziative di contrasto al crescente fenomeno del lavoro nero, che aumenta di pari passo con l'economia sommersa e con la piaga dell'evasione fiscale, e a contemplare una sostanziale riduzione della tassazione sul lavoro dipendente. Sul capitolo degli ammortizzatori sociali, la Fisaskat commenta positivamente l'introduzione dell'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego che rafforza l'indennità di disoccupazione nella durata e nel sostegno economico, il mantenimento del sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei contratti di solidarietà, la costituzione dei fondi di solidarietà che interverranno attraverso il sistema della bilateralità per l'estensione delle tutele nei settori non coperti dal sostegno al reddito e superando di fatto l'antagonismo tra i soggetti inclusi ed esclusi dagli ammortizzatori sociali. Per la Fisaskat, infine, la partita ora è tutta da giocare sul campo e nelle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, per consentire la piena realizzazione di quanto di positivo c'è nella riforma, anche attraverso un ruolo di primo piano affidato proprio alla contrattazione collettiva. La riforma portata avanti dal governo Monti è stato un passo necessario a livello internazionale, però bisogna stare attenti per il vero ruolo che potrà avere soprattutto nei prossimi tempi. Bisognerà, nonostante le grandi difficoltà che ci sono anche a livello europeo, internazionale, portare avanti azioni che garantiscano soprattutto lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Per sviluppare l'occupazione giovanile ci sono necessarie delle regole certe sui meccanismi di avviamento al lavoro, tutele comunque rispetto all'uscita dei lavoratori e delle lavoratrici dal mondo del lavoro per cercare di evitare ulteriori traumi di una società che già ha dei problemi seri, che sono quelli di un'occupazione che stenta a decollare, soprattutto nella crisi questo ragionamento va centrato sulle politiche per i giovani e per le donne che sono le prime vittime di una situazione di crisi che deve essere risolta prossimamente col contributo di tutti. Il sindacato dovrà lavorare in questo senso, svolgere un ruolo pieno anche rispetto alla contrattazione che si aprirà nei prossimi tempi. Noi prossimamente apriremo delle trattative, ad esempio nel settore del turismo, bisognerà cominciare a parlare di questo tema, di come valorizzare l'occupazione soprattutto per i giovani e per le donne. Torniamo a parlare del contratto nazionale del turismo che interessa oltre 1.200.000 lavoratori dipendenti e circa 250.000 stagionali. La Fisaskat, in linea con quanto previsto dalla riforma della contrattazione definita nel 2009, presenterà la piattaforma di rinnovo entro il 31 ottobre di quest'anno, ossia sei mesi prima della scadenza naturale del contratto. Lo scenario in cui si aprirà il negoziato è quello di una crisi che è inciso negativamente sull'andamento del settore, che pur registrando la tenuta dei flussi turistici esteri, subisce una forte caduta della domanda interna, fenomeno principalmente imputabile alla scarsa disponibilità del reddito delle famiglie italiane. Ed è proprio per questo che la Fisaskat considera prioritario ridurre la tassazione su lavoratori e pensionati. Tre punti fermi della piattaforma è il rilancio del sistema delle relazioni sindacali, l'effettivo decollo della contrattazione decentrata dove favorire l'applicazione delle norme sull'apprendistato, il rafforzamento del welfare e della bilateralità e sulla parte economica la definizione degli aumenti con il criterio dell'IPCA. Non meno importante per la Fisaskat l'applicazione del contratto anche per gli addetti delle attività svolte in appalto e l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con il governo, per favorire lo sviluppo di politiche turistiche finalizzate alla ripresa del settore. Sarà un appuntamento importante, ha commentato il segretario nazionale Giovanni Pirulli, che ci vedrà in prima linea per salvaguardare il lavoro che c'è e per rilanciare l'occupazione giovanile. Prosegue intanto con la Confedilizia il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale dei portieri. Tra i temi al centro del confronto, quello dell'avvio della contrattazione decentrata con la previsione di un elemento economico di garanzia, proposta questa non accettata dalla controparte. Sulla parte economica, Confedilizia ha proposto per il triennio 2011-2013 un aumento di 61,95 euro. La Fisaskat di contro chiede 62 euro, escludendo dal calcolo il conteggio delle indennità di funzione previste dal contratto e incluse invece nella proposta datoriale. La Fisaskat sta valutando il coinvolgimento del Ministero del Lavoro per consentire di giungere a breve alla chiusura del negoziato. Torniamo ad occuparci dei lavoratori delle casse da gioco. I sindacati del settore Fisaskat-Cisl, SLCCGL e WilcomWil, nell'invitare le aziende a riprendere al più presso il confronto per il primo contratto nazionale, hanno espresso condivisione sugli obiettivi contenuti nel documento presentato da Federgioco, l'associazione datoriale del settore che ha espresso la necessità di individuare strategie per il consolidamento e lo sviluppo dei quattro casino italiani di Sanremo, San Vensan, Venezia e Campione d'Italia, e per il rilancio dell'occupazione nel settore. In un comunicato congiunto, i tre sindacati sottolineano l'urgenza di definire un contratto nazionale che preveda un nuovo modello di relazioni industriali, che sappia rilanciare il confronto con le istituzioni e gli enti competenti del territorio sulle materie fiscali, sulla tracciabilità, sugli ammortizzatori sociali, oltre che sugli aspetti previdenziali ed assicurativi. Ed ora una notizia per i 600 lavoratori della catena alberghiera Star Hotels. A gennaio era stato ratificato l'accordo sul primo contratto integrativo del comparto valevole dal 2011 fino a tutto il 2013. L'intesa ha confermato la validità degli accordi raggiunti a livello di singola unità alberghiera e ha formalmente avviato le relazioni sindacali del settore. Sulla parte economica le parti hanno stabilito che il premio di risultato fosse sostanzialmente correlato a tre parametri relativi all'andamento aziendale. Uno definito a livello nazionale e gli altri due stabiliti a livello di singolo albergo. I sindacati hanno inviato alla direzione di Star Hotels una richiesta di incontro finalizzata all'informazione preventiva sull'andamento della società e sul monitoraggio del premio aziendale. Torniamo ad occuparci di Ikea. I sindacati hanno sottoscritto con la direzione aziendale un'intesa che in parte modifica alcuni istituti contrattuali al fine di rispondere alla fase critica che sta vivendo il colosso svedese e finalizzata anche a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e per agevolare il programma delle prossime aperture comunque confermate. In particolare l'intesa interviene sul periodo di franchigia per l'applicazione del contratto integrativo aziendale che passa da due a quattro anni. È stata fissata al 70% la maggiorazione per lavoro domenicale festivo che arriverà al 130% dopo due anni di apertura del negozio. È stato inoltre aumentato il periodo per la maturazione del premio di risultato e sui trasferimenti è stato stabilito che qualora quelli volontari non bastassero a far fronte alle necessità di presidio dei punti vendita l'azienda sarà obbligata a tarne informazione preventiva finalizzata al confronto con i sindacati. Si conferma la validità del contratto integrativo che per la crisi in atto ha visto la modifica temporanea di alcune norme e per la prima volta è stata sancita la partecipazione diretta dei sindacati sulla clausola del trasferimento dove il datore di lavoro avrebbe potuto decidere unilateralmente. Il managgimento aziendale ha dimostrato ancora una volta una non comuna attenzione per i propri lavoratori ha commentato il segretario nazionale Vincenzo Dell'Orefice. I sindacati hanno inviato al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di incontro sul contenzioso che si è venuta a creare in seguito al comportamento del tour operator Valtour che sta procedendo all'assunzione di lavoratori con contratto a chiamata eludendo le norme del contratto nazionale del turismo norme che per il lavoro stagionale prevedono invece il ricorso al contratto a tempo determinato che garantirebbe anche la maturazione dei diritti per il sostegno al reddito alla fine della stagione. Nella nota i sindacati hanno ribadito che le problematiche connesse alla gestione operativa del commissariamento dovranno comunque essere affrontate nel rispetto dei contratti e delle corrette relazioni sindacali. Parliamo di un'altra società che organizza vacanze, la società Alpitour. Si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico il previsto incontro per la definizione del trasferimento di circa 300 lavoratori di cui un terzo part-time dalla sede di Cuneo a quella di Torino passaggio che dovrebbe avvenire entro il prossimo novembre. L'azienda si è resa disponibile a mantenere un'unità produttiva a Cuneo e a unificare la direzione aziendale a Torino. La trattativa sulle modalità del trasferimento si svolgerà il 30 giugno a Torino per poi proseguire il 4, 5 e 6 luglio in vista dell'incontro definitivo al Ministero previsto per il 9 luglio. Ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TG Lab anche su Facebook e YouTube sul canale Fisaskat Cisla e che potete inviarci segnalazioni e suggerimenti all'indirizzo mail a redazione tglab.fisaskat.it Vi segnaliamo che sul sito web della Federazione www.fisaskat.it è possibile consultare un'demanda agli approfondimenti del nostro TG sugli argomenti di maggiore interesse della categoria e le notizie di natura sindacale territoriale. È tutto, grazie di averci seguito. Vi aspettiamo la prossima settimana. La Fisaskat tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, turismo e servizi garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisaskat sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene, attraverso la contrattazione, in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione continua. Attraverso la Fisaskat e il sistema servizi integrati della CISL, il CAF e il patronato INAS, è possibile usufruire di consulenza per la dichiarazione dei redditi, per le pratiche previdenziali ed assistenziali e in caso di malattia, maternità, infortuni, assegni familiari e relativamente alle domande di disoccupazione. È possibile essere sempre informati sull'attività della Fisaskat attraverso il TG Lab, notiziario settimanale online e con i periodici progetto terziario e laboratorio terziario. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 126 di territoriali e regionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisaskat è il tuo sistema di tutela. La Fisaskat è il tuo sistema di tutela.